voi dovete solo guardare e imparare vedi? 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 chi ha? è figa ma porco te ma era in cima? si era in cima che cacchio fai con i versi? ha fatto qui? vado intanto a girarsi è una cosa scandalosa io non so capace lui ha detto la cosa è la cosa più difficile la cosa più difficile vai a metto l'altro passagli da parte si passagli da parte ma va aiuto no